Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti alla Gregoriana, quelli che sono di casa, benvenuti anche essi. Vogliamo dare inizio a questo ciclo di conferenze sul tema dei diritti umani. Abbiamo voluto fare una cosa quest'anno per celebrare l'anniversario della dichiarazione del 48 e di riflettere su questi temi nel nostro ambito universitario. Certamente mettendo insieme una riflessione di fondo, quindi nelle prime tre sedute di questo ciclo di conferenze, guardiamo un po' i fondamenti, il testo, la storia, i fondamenti filosofici, giuridici, i fondamenti teologici della dichiarazione. Per poi vedere in sei sedute dei vari temi, specialmente pensando verso il futuro, verso l'attualità e il futuro. Cosa possiamo dire oggi sui diritti umani? Molto è stato scritto anche quest'anno e pubblicato sul tema dei diritti umani. Alcuni autori mostrano che c'è da sperare. C'è un libro di Katrin Sikink alla Harvard Kennedy School che dice che sono tanti indicatori che indicano che in quest'ultimo secolo, dopo gli orrori delle prime due guerre mondiali, dopo gli orrori del Novecento, c'è da sperare perché in tutto il mondo pian piano cresce una consapevolezza dei diritti umani. Però senza essere ingenui, senza pensare che le cose vanno bene in tutto il mondo. Come sappiamo ci sono tante cose, tante violazioni dei diritti umani che continuano a succedere nel nostro mondo, che ci fanno pensare. Certamente le tecnologie nuove, il discorso per esempio sul posto umano e poi anche tutta la questione ecologica, aprono delle piste importanti per la riflessione su questi temi. Abbiamo voluto invitare dei docenti, dei professori di varie provenienze, di varie competenze per avere un dibattito ricco. In ogni seduta c'è qualcuno di casa, della Gregoriana, e poi abbiamo invitato un relatore esterno. Io non mi sono presentato, perché alcuni mi conoscono, sono il padre Eremicale, Gesvita Maltese, collaboro con Don Rocco D'Ambrosio e è un progetto questo di collaborazione tra la Facoltà di Scienze Sociali e il Dipartimento di Teologia Morale. E porto il saluto da parte di padre Diego Alonso Lasceras, che è il direttore del Dipartimento di Teologia Morale. sugli obiettivi e contenuto, lo potete vedere nei volantini e nell'informazione che trovate su internet. Perciò vorrei passare la parola adesso al nostro decano di Scienze Sociali per un saluto. Buonasera a tutti, sono Giacchino Azezzop. Vorrei soltanto accogliervi e salutarvi all'inizio di questo corso. Spero che sarà una bellissima opportunità per riscoprire la bellezza e l'importanza dei diritti umani. Buonasera a tutti, presento i relatori che fra i compiti è quello più difficile perché sono dei colleghi allora è meglio stabilire prima quello che devo dire ancora dico una parola di più, una parola di meno. Ma nell'era tecnologica si è anche facilitati perché mentre io dico il vostro nome uno digita e si legge tutto il curriculum quindi anche se sbaglio c'ha una testimonianza. Bene, grazie come diceva il padre René e grazie ai due docenti un docente della Gregoriana che è il professor Sergio Tanzarella che insegna di per sé è ordinario di storia antica e contemporanea la facoltà teologica dell'Italia meridionale nella sezione San Luigi e poi insegna anche qui storia antica solamente credo qui non contemporanea. E quindi benvenuto al professor Tanzarella e benvenuto anche al professor Giulio Siranni che è docente di istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia e quindi non ho detto né una parola in meno né una parola in più di quella concordata altrimenti le diamo qualche diritto fondamentale. Grazie. Ah ecco, ho detto una parola in meno. Una parola in più io semplicemente per dire che come formula vogliamo fare due interventi due relazioni di circa 20 minuti cerchiamo di restare nel tempo se si riesce a finire in 40 minuti avremo ancora 10 minuti un po' per un po' di dialogo tra i due relatori poi avremo una mezz'ora di dialogo con il pubblico con voi speriamo che possa essere ricco questo scambio. Per quelli che fanno questo come corso hanno già ricevuto per email le istruzioni nel programma se ci sono dei problemi, delle domande possono parlare con noi alla fine o in altra sede. Grazie. Bene, buon pomeriggio a tutti e grazie di questo invito con il collega concordavamo su questa idea abbiamo questa grave responsabilità di iniziare iniziare questa iniziativa che definisco coraggiosa e opportuna perché complessivamente nonostante l'Accademia ritorni a parlarne complessivamente però almeno in Italia la memoria della dichiarazione è quasi del tutto cancellata. Io sono stato invitato a richiamare il contesto storico nel quale la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo venne elaborata e poi approvata il 10 dicembre del 1948. Essa è per noi la fonte di un mondo che rischia ormai di scomparire infatti nonostante la retorica delle propagande governative la storia in Italia e il suo studio sono ormai in via di estinzione basti soltanto pensare all'ultima disposizione degli istituti tecnici in Italia le ore di lezione sono state ridotte a una il passo successivo sarà nell'ordine della mezz'ora se l'unità di misura lo consentirà e in realtà è il riferimento a lungo dopoguerra che nel 1948 era appena iniziato. In quel 10 dicembre del 48 erano trascorsi poco più di tre anni dai lampi di Hiroshima e Nagasaki con i quali si concludeva una guerra mondiale in cui erano morte appena 40 milioni di persone ed erano passati poco meno di 30 anni dalla fine della prima guerra mondiale con i suoi quasi 10 milioni di morti. In quel primo mezzo secolo vi era stato un susseguirsi di guerre di rivoluzioni di repressioni con un corollario di persecuzioni di torture sistematiche di genocidi il fumo dei corpi dei campi di concentramento nazisti non si era ancora dissolto e neppure i veleni delle camere a gas erano diventati inerti. Questo ci serve per comprendere come è maturata quella decisione come si è arrivati a quella dichiarazione dimenticarlo rischia di non farci comprendere. In quella stagione gruppi di intellettuali e politici in tutto il mondo aspiravano a porre la parola fine a quella violazione sistematica del diritto alla vita che sono le guerre e pensavano di porre fine all'orrore che avevano sperimentato su larga scala negli ultimi tre decenni. come ricordava Giuseppe Capograssi questi testi e i principi scritti in questi testi non sono arbitraria escogitazione di individui o gruppi per quanto autorevoli sono l'effetto di fondamentali esigenze che l'umanità contemporanea ha sentito e sente in conseguenza delle esperienze a cui è stata sottoposta queste parole del 1957 mi sembra che racchiudono perfettamente il clima che ha portato a quella elaborazione la dichiarazione si colloca dunque al centro del novecento nel 1948 di quel ventesimo secolo che sarà ricordato come il secolo che ha prodotto un universo concentrazionario su larga scala prima e dopo quel 48 e i campi di concentramento nazisti come noto costituiscono solo un esempio che ha avuto tristi predecedenti e soprattutto avrà continue imitazioni la dichiarazione è indirettamente il tentativo di offrire una risposta alle domande che nel giugno del 1945 un giornalista ungherese esule negli Stati Uniti poneva in un libro straordinario che ebbe un grandissimo successo oltre mille presentazioni anatomia della pace in quel libro Emery Reves che era scampato alla Gestapo poneva una domanda una serie di domande e sosteneva che solo l'affermarsi dell'universalismo era in grado di promuovere un governo mondiale che potesse rimediare ai fallimenti del capitalismo del socialismo e delle religioni e individuava fra le domande che poneva una precisa responsabilità cristiana contro le interpretazioni che già in quel tempo in nome del principio dell'obbedienza dei subordinati restringevano la responsabilità esclusivamente ai vertici degli Stati e degli eserciti proprio a coloro ai quali negli anni successivi sarebbe stata attribuita in modo esclusivo la colpa dell'immane ecatombe di esseri umani scriveva il risorgere delle barbarie e il generale ricorso al massacro in serie in tutto il mondo non può essere considerato come l'opera di pochi atei e sadici agenti della Gestapo o di qualche fanatico dello scintoismo queste pratiche sono anche di parecchia gente pia e osservante delle varie nazionalità milioni di innocenti sono stati assassinati a sangue freddo decine di milioni sono stati spogliati deportati e resi schiavi da cristiani discendenti di famiglie appartenenti per secoli alla chiesa cattolica romana alla greca ortodossa e alla protestante come evidente queste sono ancora domande che attendono una risposta compiuta dai cristiani e dalle chiese e la dichiarazione è dunque il punto di arrivo di questa tragica esperienza e va compresa al di là delle conseguenze che ha prodotto nella storia come un punto di non ritorno per tutta l'umanità essa insieme alla carta dell'ONU del 1945 rappresenta la risposta al mortale fallimento del principio della sovranità assoluta degli stati in ordine alla pace al diritto alla vita e ai diritti degli esseri umani essa è carica delle idealità di coloro che la scrissero e che sognavano un mondo nel quale quei principi si sarebbero progressivamente affermati e tuttavia chi accetta di sfogliare i rapporti annuali di Amnesty International e di altre organizzazioni e quindi di immergersi nell'orrore quotidiano non può non constatare come proprio i diritti affermati nella dichiarazione e quelli da essa derivati in altri testi successivi e specifici sono stati in questi 70 anni costantemente negati e lo spirito del testo resta ancora in tutto il mondo complessivamente non attuato e questo non solo nelle nazioni dove vivono dittature e regimi è troppo semplice osservare questo evidente o dove sono in corso guerre evidente anche questo ma anche nelle democrazie che hanno lunga vita e tradizione del diritto si potrebbe anzi affermare che le politiche economiche quelle sociali e quelle della sicurezza hanno prodotto e producono leggi e prassi che non solo negano quei diritti fino a renderli di fatto non esigibili ma che si oppongono anche al solo riconoscimento dei diritti della dichiarazione e non mi riferisco qui a quegli avvenimenti gravissimi di negazione di diritti umani di carattere straordinario in violazione alle leggi parlando dell'Italia i fatti dei giorni di Genova della scuola Diaz della caserma Bolzanetto durante il G7 del 2003 o cronaca di questi ultimi giorni l'omicidio del povero Cucchi e alla miriade di altre violazioni ma mi riferisco alle negazioni ordinarie dei diritti umani come avviene nella quasi totalità degli istituti di pena italiani che ho avuto la possibilità di frequentare non come recluso per il vero e nella gestione della sanità pubblica del lavoro nero del lavoro paraschiavistico o nella tratta degli esseri umani che sono tutte in realtà diffuse sistemiche e tollerate in Italia oppure come i respingimenti alla frontiera la detenzione su navi italiane attraccate in porti italiani le doppie mense per bambini italiani e stranieri il restringimento del diritto d'asilo la creazione di centri di identificazione ovvero campi di concentramento in Libia l'applicazione della cosiddetta legge Bossi-Fini fino ad arrivare ma cioè questione grave diffusa in Occidente a legare diritti umani a cittadinanza che è la cosa più grave che si potesse mai pensare in quel 1948 era impensabile affermando così un principio di esclusione che ha come conseguenza la cancellazione di fatto di universale degli stessi diritti umani fino a far diventare reato anche la solidarietà come il caso di Mimmo Lucano ampiamente dimostra la grande svolta per comprendere la dichiarazione dunque è costituita innanzitutto in quel tempo dall'affermazione delle democrazie costituzionali ovvero dalla fissità delle costituzioni come elemento sopraordinato rispetto alla leggellazione ordinaria e come quest'ultima deve rimanere adesso assoggettata non sono più sufficienti procedure legali per legiferare mi permettano la digressione questo dovrebbe essere ricordato in molti parlamenti non è più sufficiente questo occorre anche un rispetto di sostanza ai principi sanciti dalle costituzioni come sostiene Luigi Ferraioli la costituzionalizzazione rigida del principio della pace dei diritti fondamentali e della divisione dei poteri che sono esattamente ciò che il fascismo ha negato e che del fascismo rappresentano la negazione imponendone rispetto ai pubblici poteri innesta infatti nella democrazia in aggiunta alla tradizionale dimensione politica meramente formale e procedurale perché riguarda il chi e il come delle decisioni una dimensione sostanziale importante sostanziale riguardante il che cosa non può essere deciso la violazione dei diritti di libertà e della pace o deve essere deciso la soddisfazione dei diritti sociali da parte di qualunque maggioranza non è quindi un caso che la dichiarazione vede luce quasi in coincidenza con la costituzione italiana e con quella tedesca e ha come sfondo l'avvio di un lungo lunghissimo dopoguerra adesso però si arriva attraverso un percorso che comincia quando la guerra mondiale è ancora in corso con il famoso messaggio del 6 gennaio 1941 dal presidente degli Stati Uniti al congresso nel quale si chiamavano le quattro libertà umane che occorre diffondere nel mondo libertà di parola e di espressione libertà di fede e di culto libertà dal bisogno libertà dalla paura tali principi vennero ripresi nella carta atlantica del 14 agosto del 1941 e il 15 gennaio del 1942 le Nazioni Unite dichiararono il proprio impegno a citazione testuale difendere la vita e la libertà l'indipendenza e la libertà religiosa e a conservare i diritti dell'uomo e la giustizia così nei propri paesi come in tutte le altre nazioni questo appena questo e altri accenni per dimostrare che la dichiarazione del 48 ha una certa storia che la precede dopo una laboriosa gestazione fu nella conferenza di San Francisco avviata il 25 aprile del 45 che si arrivò allo statuto delle Nazioni Unite nel quale si promuoveva e incoraggiava citazione anche qui il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza sesso lingua o religione fu dunque da questi precedenti che si formò nel 1947 pur faticosamente la commissione che stese materialmente la dichiarazione che prese la forma di un manifesto collettivo perché di questo si tratta che era il massimo ottenibile nel clima della futura guerra fredda capita talvolta di leggere osservazioni sulla dichiarazione che non comprendono che cos'era il contesto di quel 1948 da dove si veniva appena l'altro ieri di quel 48 il lavoro fu intenso e non privo di ostacoli e fu approvato dalla commissione il 26 agosto del 1948 non mi fermo sugli ostacoli numerosissimi le resistenze ma per l'approvazione occorsero ben 80 sedute del terzo comitato dell'assemblea generale per giungere infine il 9 dicembre a Parigi all'assemblea generale che il 10 l'approvò con 48 voti a favore e 8 astenzioni e anche questo fu uno straordinario successo ai suoi lavori dietero un contributo non piccolo sia alcuni libri che ispirarono gli estensori degli articoli ne cito uno fra tutti i diritti dell'uomo e la legge naturale di Maritain allora il filosofo avversato e in qualche modo dileggiato da un certo mondo cattolico e lo stesso Maritain aveva pronunciato un discorso straordinario che fu di ispirazione ai lavori il discorso di città del Messico del 6 novembre del 1947 le possibilità di cooperazione in un mondo diviso ma non piccolo contributo fu offerto da diverse ONG anche cristiane e in accordo con i rappresentanti delle nazioni sudamericane che su alcuni articoli esercitarono una forte influenza per esempio sull'articolo 14 relativo al diritto d'asilo sul 5 contro la tortura sul 26 sull'educazione sul 16 sulla famiglia e tutto questo fu possibile grazie anche a una delle figure più illuminate autorevoli della commissione il libanese Charles Malek e l'estensore della prima bozza della dichiarazione accolse le proposte di diverse nazioni sudamericane e realizzò anche pensino una sinossi delle costituzioni di oltre 50 nazioni per cui ciò che sta sullo sfondo il calco della dichiarazione sono le stesse costituzioni dalle quali si è tratta ispirazione ma ciò che sovente si dimentica è l'influsso esercitato sulla dichiarazione dalla dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo adottata a Bogotà il 30 aprile del 1948 lo stesso anno nella nona conferenza degli stati americani tuttavia l'aspetto ancora impressionante è quello di essere giunti alla collaborazione e all'accordo tra rappresentanti di mondi tra loro lontanissimi comunisti cristiani di varie confessioni orientali sudamericani ebrei europei in qualche misura se ci meravigliamo di come si è arrivati alla stessura finale della costituzione italiana uguale meraviglia dobbiamo farci per quello che è avvenuto in quel 1947-48 si trattò di un'impresa quasi impossibile se non fosse stato adottato il metodo di evitare le concezioni teoriche ma utilizzare quella che Maritain anche grazie al contributo di interviste sui diritti umani rivolte a grandi personalità tra queste Gandhi Croce Tellar de Chardin aveva raccolto suggerendo di arrivare a un accordo su un certo numero di verità pratiche e su diverse conclusioni pratiche ispirate ai principi di azione con questo metodo del quale Maritain fu uno degli ideatori molte barriere vennero superate e spesso le stesse ONG che avevano provenienze diverse di religione di cultura si trovarono a sostenere le stesse proposte nella fase di stessura e dibattito della dichiarazione non prevalse alcun sistema filosofico o dottrina politica ma si arrivò al risultato di una cooperazione intellettuale e morale di un gran numero di nazioni disse allora il rappresentante cinese che la commissione era arrivata a conciliare Confucio e Sant'Omaso un'opera quasi incredibile considerando dicevo le fratture politiche che attraversavano il mondo in quel dopoguerra ma forse proprio gli orrori della guerra il primato assoluto della pace avevano permesso tutto questo infatti i diritti umani appaiono strettamente connessi alla pace nella struttura della dichiarazione e qui mi rivolgo in particolare agli studenti che sono presenti e questa connessione alla pace è una delle chiavi per leggere la dichiarazione nel dicembre del 1948 nonostante il protarsi del blocco di Berlino e la forte tensione internazionale tra Stati Uniti e Unione Sovietica l'umanità intera compì un passo avanti nel cammino di civiltà anche grazie al lavoro e all'apporto di diverse ONG cristiane e di altre organizzazioni laiche o ebraiche dopo la barbarie nazista e lo scontro di civiltà tra virgolette tra democrazie e fascismi durante gli anni di guerra si arrivò a un testo che coniugava idealmente scrive Capograssi i diritti umani alla pace nel senso che chi si macchiava di chiavi violazioni metteva a repentaglio la pace internazionale fu così dunque che nacque il primo decalogo dei diritti umani che non portava con sé complesse disquisizioni disquisizioni filosofiche sul fondamento degli stessi ma che si presentava come una sorta questa è la definizione che suggerisce di lista sempre aperta e richiamandosi poi a Bobbio scriveva che andava a scalfire la sovranità assoluta degli stati proteggendo un nucleo di diritti naturali anche contro lo Stato stesso vi permette di sottolineare questo aspetto riguardo anche all'attuale condizione della politica italiana e di tesi esattamente opposte sostenute da qualche ministro italiano un discorso a parte meriterebbe la posizione ufficiale del cattolicesimo romano non mi devo fermare più di tanto è stata anche studiata basti però qui ricordare che la dichiarazione ebbe un giudizio fortemente categoricamente negativo dall'osservatore romano in un articolo attribuibile al suo direttore Giuseppe Dallatorre che anche in altri articoli mostrava la permanenza di un fermo intransigentismo cattolico collegando la dichiarazione con la di rivoluzione francese e con la dichiarazione del 1789 la sintesi era nulla di nuovo abbiamo già sentito queste parole due secoli fa o quasi insomma giudizio negativo anche se più articolato fu quello del padre Messineo sulla civiltà cattolica che in una serie di articoli nel 49 ne denunciava la totale inefficacia e il fallimento soprattutto dinanzi al pericolo comunista ma su tutti questi aspetti possono leggere opportunamente il volume di Daniele Menozzi Chiesa e diritti umani legge naturale modernità politica dalla rivoluzione francese ai nostri giorni un punto di insistenza comune era la denuncia dell'assenza di riferimento al dio cristiano nella dichiarazione ma è un tema questo ricorrente possono capire rispetto a quello che ho detto prima come fosse una pretesa impossibile considerata la varietà delle componenti che vi hanno lavorato ma questo per dare l'idea di cosa si avvertiva a Roma su questi problemi sfuggiva a queste durissime analisi che seppur la dichiarazione non aveva implicazioni normative dirette aveva pur lo scopo di influenzare positivamente le politiche dei singoli stati dimostrando che i diritti rischiavano di rimanere sempre figurativi ovvero non esigibili se la persona umana non era posta concretamente al centro di quei diritti di questa concretezza scriveva ancora Capograssi ricordando che il contenuto della presente dichiarazione non nasce da deduzioni astratte o si riporta a vecchie metafisiche o a vecchi cataloghi di diritto naturale e qui la risposta ovviamente è indiretta ma chiara a chi invece richiamava il diritto naturale ma è dettato dai bisogni più certi delle nostre società e si commisura ai fatti più clamorosi e alle esigenze più vitali dell'umanità presente così come la dichiarazione è quasi il più potente atto di riflessione che le Nazioni Unite hanno portato sulla esperienza storica della società contemporanea il profondo giudizio che dalla più sofferta prassi dei popoli le nazioni stesse hanno desunto la dichiarazione quindi nella sua genesi si colloca su questo tornante di anni dell'esperienza bellica ma anche di tutte quelle ideologie politiche avevano compreso l'individuo non come persona ma come semplice mezzo a servizio di valori collettivi e impersonali la nazione la classe la società la razza la cittadinanza un semplice mezzo la cui sorte aspirazione e individualità non aveva alcun valore specifico l'ideologia di guerra aveva portato alle estreme conseguenze questo principio conoscono qual è il principio dell'ideologia di guerra come si afferma nella prima guerra mondiale è quella della totale spersonalizzazione in essa il soldato è soltanto un anonimo e insignificante elemento di una massa di anonimi se leggono le raggelanti parole del padre Agostino Gemelli consulente dello stato maggiore italiano vedranno che i suggerimenti di questo insigne psicologo e proprio convergono su questo punto occorre togliere personalità individualità al soldato perché diventi un obbediente macchina da guerra sono parole raggelanti chiaramente ma che influenzarono fortemente gli stati maggiori convinselo che occorreva insistere su questa linea dunque l'esperienza della guerra aveva proprio tracciato la linea la dichiarazione si oppone a questa concezione ponendo la persona umana come valore assoluto e come fine rispetto al quale i valori collettivi sono semplici mezzi la dichiarazione nei suoi articoli affermando i diritti condanna di conseguenza tutte le tendenze che nel corso della storia questi diritti hanno negati si dirà a 70 anni della sua pubblicazione che la dichiarazione è stata inefficace e che non ha trovato applicazione e tuttavia essa rappresenta uno straordinario momento di rimente perché è grande cosa che la verità sia dichiarata che la condanna sia pure teorica ci sia che quello che è negativo sia dichiarato come negativo che la violazione sia qualificata come violazione è cosa fondamentale insomma che l'orribile dubbio che pareva oscurasse oscura la coscienza dell'umanità che l'uomo non abbia valore e che se ne possa fare quello che si voglia sia eliminato tutta l'umanità della vita sta in questo riconoscere la verità cioè ne riconoscere il positivo della vita dal negativo il bene dal male appena scritto Mimmo Lucano il sindaco recluso e oggi semi liberato perché non può ritornare nel suo comune non può soggiornare nel suo comune e mi sembra sia utile questa circostanza per chiudere con le sue parole verrà un giorno in una lettera che ha scritto appena ieri da Esule verrà un giorno in cui ci sarà più rispetto per i diritti umani più pace che guerre più uguaglianza più libertà che barbarie dove non ci saranno più persone che viaggiano in business class ed altre ammassate come merce e carne umana provenienti dai porti coloniali con le mani aggrappate alle onde dei mari dell'odio c'è bisogno di uno stacco come potete capire dopo l'intensità dopo aver ascoltato queste parole così intense così vibranti dopo essere entrati nel contesto nello scenario culturale umano di dolore insomma che ha accompagnato ha preceduto la formazione di quest'atto straordinario approvato dall'Assemblea Generale 70 anni fa io ho un compito io sono un giurista quindi il mio compito è un po' più più limitato più limitato ma complesso e complicato perché ci cercherà cercherò in qualche modo di rispondere a due quesiti fondamentali due quesiti fondamentali che servono per capire sia cosa è stato questa dichiarazione sia cosa potrà essere oltretutto sempre con uno sguardo in avanti ecco perché non stiamo parlando di un documento che ha esaurito la sua forza propulsiva per usare le famose espressioni ma è un documento che ha per sua natura una capacità è un atto compiuto come diceva Capograsi 70 anni fa che continua a lanciarsi nel tempo che si arricchendosi sempre di valenze che sono nuove cioè non è un atto che si asurisce in un comportamento statico ma è un atto fecondo un atto ricco di vita e di capacità creativa ecco quindi è necessario passare per questi scogli dell'esperienza giuridica che poi alla base della dichiarazione c'è una intuizione di fondo che si trova nella Carta delle Nazioni Unite che si trova anche nel preambolo della dichiarazione che in sostanza i diritti non possono esistere se non sono giuridicizzati quindi la forma diritto è una forma essenziale nell'esperienza umana non se ne può prescindere ecco è una voglio dire un'affermazione che potrebbe sembrare la palissiana ma non è poi in realtà così la palissiana perché perché poi il diritto ha una sua struttura ha una sua logica ha una sua tecnicità ha un suo costrutto è un linguaggio quindi dalle capacità di questo linguaggio che si chiama diritto dipende la capacità di questo altro linguaggio che si questo obiettivo che è quello della protezione della vita degli uomini ecco questo è ora quindi il primo problema è quello di capire in qualche modo la natura giuridica di questa dichiarazione universale e poi sarà necessario entrare dentro i contenuti di questa dichiarazione universale per comprenderli meglio sul primo aspetto la natura giuridica il problema della natura giuridica capite che è un problema delicatissimo perché in una prospettiva nichilistica quello che non è diritto non è nulla e questo è appunto pericoloso evidentemente perché non è vero che l'esperienza umana è divisa tra due possibilità o diritto o niente la realtà è più complicata ora che risposta possiamo dare a questo quesito la risposta apparentemente ce la dà immediatamente il preambolo della dichiarazione nell'ultimo capoverso del preambolo si afferma ve lo leggo così comprendete l'assemblea generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli da tutte le nazioni affinché ogni individuo e ogni organo della società quindi è una proiezione che si rivolge sia agli uomini sia alle organizzazioni della vita sociale avendo costantemente presente questa dichiarazione cioè quindi una sorta di vademecum si sforzino di promuovere con l'insegnamento e l'educazione il rispetto di questi diritti e libertà quindi capite che il first best il first obiettivo è un obiettivo pedagogico si parla di insegnamento ed educazione come il primo canale però poi si aggiunge garantirne mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto tra i popoli degli stessi stati membri quanto tra quelli dei territori sottoposti alla loro potestà quindi capite qui scatta il momento della garanzia il momento del diritto quindi il compito la missione attribuita agli ordinamenti politici quindi sono questi i destinatari questo che cosa comporta dal punto di vista dal punto di vista giuridico abbiamo una carta una dichiarazione che contiene delle affermazioni che sono affermazioni non immediatamente giuridiche sono indicazioni di obiettivi e di finalità che attendono di assumere poi la loro forma giuridica quando le organizzazioni politiche gli conferiranno questa ulteriore veste quindi c'è questo 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 quindi la giuridicità in che cosa sta apparentemente abbiamo una giuridicità come si può dire limitata per comprendere però meglio il senso di questa relativa giuridicità quella di un atto di indirizzo di una raccomandazione voglio ricordare che dal punto di vista formale la dichiarazione la proclamazione è il contenuto di una risoluzione cioè di un atto di impegno di un atto di impegno col quale le Nazioni Unite specificano quali sono i diritti che secondo la carta stessa devono essere tutelati diritti umani insieme alla pace detto in altri termini la carta prefigura come obiettivo la tutela della pace e poi la promozione dei diritti umani la carta non contiene una definizione dei diritti umani la definizione di questi diritti umani è affidata a questo strumento che è la proclamazione universale dei diritti dell'uomo qual è la giuridicità intrinseca in questa dichiarazione la proclamazione costituisce un vincolo che grava su tutti i paesi membri delle Nazioni Unite perché a norma dell'articolo 56 e dello statuto delle Nazioni Unite i paesi membri sono depositari del dovere di come si può dire assecondare cooperare per il conseguimento delle finalità stabilite dalla carta delle Nazioni Unite ecco quindi in sostanza abbiamo una sorta di obbligatorietà in qualche modo mediata di rimbalzo non c'è un obbligo che direttamente dalla dichiarazione passa si trasmette agli stati ora quindi quali sono i diritti umani obbligatori stante questa premessa i diritti umani da considerare obbligatori sotto il profilo giuridico quindi nella prospettiva del diritto internazionale sono quei doveri quegli obblighi che sono sanciti dalle fonti che sono proprie del diritto internazionale e le fonti del diritto internazionale sono le fonti consuetudinari e le fonti convenzionali quindi la convenzione è la fonte produttiva degli obblighi e nella prospettiva dei diritti umani quali sono le fonti di questi diritti umani intanto ci sono delle fonti per così dire generali già previste parallelamente all'approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sono i patti che sono stati approvati vent'anni dopo nel 1966 il patto dei diritti civili e politici e poi il patto dei diritti economici e sociali questo a distanza di tempo venti anni vi fa capire quante maggiori difficoltà questi diritti umani incontrano nel momento in cui tendono virtualmente ad assumere una veste che è giuridica e non è soltanto quella della assegnazione di un ideale comune ulteriormente i diritti umani trovano le loro sedi normative in altre convenzioni che non hanno carattere generale non sono per così dire orizzontali ma hanno delle come si può dire curano e si impegnano in ambiti tematici particolari la prima quella del genocidio sul genocidio nel 48 poi quella sulla discriminazione razziale del 85 quella sulla discriminazione delle donne del 76 quella sulla tortura dell'84 quella sulla protezione dei minori del 89 quella sui migranti del 1990 quindi c'è tutta una catena di atti convenzionali che la comunità internazionale ha approvato naturalmente con varietà di consensi perché tutti questi atti sono firmati e ancora più ratificati da soggetti che non sono necessariamente medesimi quindi mentre la dichiarazione universale la proclamazione universale ha avuto questa approvazione così estesa e questi altri strumenti hanno avuto di volta in volta delle approvazioni molto più circoscritte e ulteriormente un altro ambito fondamentale in questa cerchia di costruzione di sistema dei diritti umani nel diritto internazionale è rappresentata poi dai trattati di area dove le condizioni i trattati di area sono trattati come si può dire definiti tra i paesi che appartengono a determinati ambiti determinati bacini territoriali dove virtualmente esistono condizioni di omogeneità maggiore che agevolano la formazione di accordi e quindi noi abbiamo tre principali accordi più antico è quello europeo l'Oxe insomma poi ancora c'è il patto interamericano e poi ancora un altro strumento importante anche se con una vitalità più modesta è quello della carta africana dei diritti che ha iniziato il suo percorso nel lontano 1981 ora quindi la conclusione qual è che i diritti e i correlativi obblighi della dichiarazione assumono una dimensione giuridica solo in via mediata è comunque una dimensione piuttosto debole in ragione dell'articolo 56 dello statuto dell'uomo oppure nella misura in cui i contenuti della dichiarazione universale non siano stati sussunti richiamati dai patti ora quindi apparentemente quindi abbiamo uno spettro di giuridicità piuttosto limitata e la questione in realtà è piuttosto è più complicata è piuttosto complicata perché in realtà l'idea che la dichiarazione universale sia semplicemente un atto di indirizzo e non abbia una carica giuridica così come d'altra parte proprio il preambolo prevede può essere messo in discussione per quale ragione ma la ragione fondamentale è data da una ridondanza di contenuti è un atto quello è un atto politico la proclamazione talmente potente che evidentemente non riesce ad essere contenuto in maniera adeguata e definitiva dalla cornice giuridica tutto sommato limitata che gli è stata data si sarà un atto di indirizzo sarà una raccomandazione ma chi può pensare che veramente un atto così importante si esaurisca in una raccomandazione allora quali sono gli output gli effetti di questa premessa questi effetti sono tradotti in una serie di tensioni che hanno spostato parte almeno dei contenuti della dichiarazione della proclamazione in assetti normativi che possono considerarsi obbligatori quindi quali sono questi passaggi e diciamo il primo passaggio può essere rappresentato dal trapasso dei precetti della dichiarazione universale nella sfera del diritto internazionale consuetudinario io vi ho detto prima che il diritto internazionale assume come fonte fondamentale i trattati internazionali quindi l'accordo multilaterale o bilaterale tra gli stati ma nel diritto internazionale esiste anche questo altro ambito quest'altra fonte che è il diritto internazionale generale generale perché si dice generale perché riguarda tutti i soggetti della comunità internazionale e riguarda tutti i soggetti della comunità internazionale indipendentemente dalla loro volontà quindi la loro volontà rileva poco perché questi certi precetti della dichiarazione universale sono ormai divenuti consuetudinariamente precetti del diritto internazionale generale i presupposti sono solitamente indicati nella diuturnitas e nell'opinio iuris la ripetizione di comportamenti dopo 70 anni e l'idea che comunque ci sia un obbligo giuridico che deve essere rispettato l'effetto di questo passaggio è importante perché evidentemente se così è questi precetti o almeno parte dei precetti sono come si può dire obbligatori per tutti indipendentemente da qualsiasi tutti i soggetti della comunità internazionale indipendentemente dalla loro volontà ora ci sono dei segni di questo trapasso sì nei libri di diritto internazionale se ne parla molto evidentemente e ci sono anche delle tracce giurisprudenziali importanti per esempio nella giurisprudenza della della corte di giustizia della dell'Ocse in certi casi capita che si faccia riferimento nella motivazione nell'argomentazione giuridica a principi giuridici estratti dalla dichiarazione universale quindi come si può dire le norme della dichiarazione universale in questo caso vivono di vita propria per così dire nel tessuto e nell'esperienza giurisprudenziale anche nel diritto interno italiano ci sono esempi in questa direzione ma resta comunque la difficoltà di riuscire a stabilire con chiarezza cosa nella dichiarazione resta allo stato di ideale comune e cosa invece per effetto della consuetudine si potrebbe essere trasformato in un vero e proprio diritto un'altra costruzione che è stata prodotta nel corso dell'esperienza sempre di origine giurisprudenziale è stata aperta dalla corte internazionale di giustizia dell'AIA nel 70 e qual è il presupposto di questo percorso di giuridizzazione il presupposto sta nel fatto che si ritiene che ci siano degli obblighi che per la loro natura degli obblighi tra gli stati che per la loro natura non possono fondarsi sulla reciprocità ma investono l'intera comunità internazionale non sono cioè obblighi che riguardano soltanto lo stato A e lo stato B ma riguardano per la loro natura l'universo degli stati e quindi come tali diventano inderogabili obbligatori per tutti e se questi obblighi vengono violati se per ipotesi gli obblighi hanno per oggetto la tutela di diritti umani le violazioni compiute possono essere rivendicate e denunciate non soltanto dalle parti direttamente lese ma diventano una vulnus che colpisce l'intera comunità internazionale e che abilita ogni soggetto a reagire vedete questo è un passaggio molto importante perché poi apre la strada ad una prostituzia che sarà sviluppata in seguito e che ancora è in corso ed è quella del riconoscimento del cosiddetto forum dei preensioni cioè l'idea che la punizione possa essere compiuta da qualsiasi giudice quando la punizione non è stata inferta dagli organi del paese che avrebbe dovuto altrimenti inferirla inferirla e ci sono anche ulteriori altri aspetti un altro modello ve lo dico però non voglio annoiarvi è quello del cosiddetto just cogens lo just cogens significa che esistono dei principi nel diritto internazionale che tutelano dei valori che per la loro natura sono sottratti al diritto internazionale sia consolidario sia pattizio cioè in altri termini non ci può essere una constitutiva internazionale anche antica e consolidata che li possa violare e non si può tantomeno immaginare che questi diritti possano essere violati attraverso degli accordi internazionali attraverso dei quindi capite c'è un esempio molto interessante proprio di questa prospettiva nella convenzione di Vienna che regola il funzionamento dei trattati e la convenzione di Vienna che cosa dice che voi sapete alla base di tutto il diritto dei trattati c'è una norma fondamentale quella per cui inademplenti non est ademplendum cioè se una parte contraente non adempie all'obbligo del trattato la controparte è liberata a sua volta dall'obbligo bene che cosa dice la convenzione di Vienna che se l'obbligo ha per oggetto diritti umani il fatto che una parte non abbia rispettato il diritto non esonera la controparte dall'obbligo di continuare a rispettare quell'obbligazione convenzionale quindi capite c'è questo spettro ci sono queste tendenze che hanno l'effetto per così dire almeno in parte di spostare i precetti dal piano dell'evocazione dell'ideale comune al piano del diritto qual è naturalmente il limite di tutto questo percorso il limite sta nel fatto che ahimè è il diritto internazionale dei diritti umani cioè tutto il diritto internazionale poggia su due presupposti due bastioni che abbiamo visto che sono quello della sovranità è quella poi della conseguenza della sovranità che è rappresentato dal principio dell'articolo 2 paragrafo 7 della carta delle Nazioni Unite cioè il principio di non interferenza degli affari interni quindi capite che le violazioni dei diritti umani sono fatte dagli stati ma l'accertamento delle violazioni è fatto dagli stati e le sanzioni non possono essere inferte se non trapassando questo scudo protettivo che è rappresentato dalla sovranità e capite quindi c'è una tragica debolezza in tutto quanto è costrutto del diritto internazionale dei diritti umani ecco e che si è cercato naturalmente in tanti modi di di superare ma sempre con delle risposte che lasciano che creano comunque delle infinite difficoltà voi capite che si passa dai tribunali come quello dell'ex Jugoslavia alla corte ultima o dalle fly zone alla possibilità di imporre sanzioni economiche a paesi che operano delle violazioni ma si arriva anche al paradosso delle guerre umanitarie che tutti conosciamo ecco quindi sono tutti quanti meccanismi che ancora non sono assolutamente accettabili quindi poi senza considerare anche un'altra circostanza che la tutela dei diritti umani è particolarmente fragile nei suoi meccanismi di implementazione dove è proprio lì dove sarebbe più necessaria e insomma già abbiamo sentito come siano fragili i diritti umani in un contesto come quello europeo ma fuori dell'Europa c'è una realtà infinitamente più fragile infinitamente più esposta infinitamente ma proprio incommensurabilmente più esposta allora quindi qual è la conclusione di tutto questo discorso sulla giuridicità o meno beh che ci sono delle parti evidentemente della dichiarazione della proclamazione universale che hanno assunto una dimensione che si può ascrivere ormai al diritto ed è una cosa molto importante che il diritto e l'affermazione che qualcosa è un diritto ha un peso e una rilevanza importantissima anzi direi questo però non deve portare a sottovalutare il fatto che gli stessi contenuti della dichiarazione universale della proclamazione universale anche nel caso in cui non abbiano questa veste giuridica continuano ad avere una rilevanza valoriale enorme quindi in sostanza non c'è una dichiarazione che vale per quelle parti in cui si è trasformato in diritto e che per il resto conta poco ma è una dichiarazione che è fondamentalmente una affermazione di valori principalmente un'affermazione di valori e i valori non sono fuori del diritto dell'esperienza giuridica non possono essere collocati all'esterno siamo su un crinale che non può essere evidentemente ignorato come linea di separazione ma che dovrebbe avere in questo crinale il compito di unire non di separare questi bacini di esperienza umana ecco queste sono alcune cose che volevo dire ora non so quanto tempo ho pochissimo tempo pochissimo tempo sui contenuti sui contenuti molte cose in realtà sono già state dette quindi i contenuti i contenuti il testo di questa dichiarazione il pregio di questo testo è che non è un testo filosofico non è un testo guidato da un pensiero politico è un testo che nasce da una drammatica e tragica esigenza una tragica esigenza che è appunto quella di come si può dire dare una risposta al collasso di civiltà prodotto dalla seconda guerra mondiale questo è il dato di fatto quindi è un testo che ha una forte componente pragmatica nel senso positivo è un pragma è un fare è l'atto come diceva Capo Grassi ed è un atto compromissorio che riesce a riuscire veramente un miracolo a tenere insieme potenze ispirate da culture politiche totalmente diverse tra di loro ci sono da parte gli americani da parte gli occidentali i veri protagonisti di questa mediazione poi sono tutti quanti collocati nell'ambito della tradizione occidentale c'è da una parte un giusnaturalismo individualista e dall'altra parte c'è un come si può dire un positivismo socialista che si fronteggiano senza che sia possibile gli uni interessati al tema della libertà e gli altri interessati al tema altrettanto importante ma poco riducibile dell'eguaglianza libertà ed eguaglianza quindi questa casta viene costruita nel tentativo di mettere insieme libertà ed eguaglianza di rendere compatibili questi due e poi c'è anche una terza componente fondamentale ed è quella appunto di Maretten e comunque di tutti i poveri cristi travolti dalle vicende della seconda guerra mondiale poveri cristi cioè significa tutti questi uomini che hanno subito sulla propria pelle il segno e il peso delle ideologie che sono stati trasformati in strumenti di ideologia razziale di potenza di nazione eccetera eccetera ecco e queste sono le grandi componenti e direi c'è una differenza fondamentale però che distingue le esperienze costituzionali dalla esperienza della proclamazione universale dei diritti dell'uomo nel senso che le dichiarazioni le costituzioni sono dei patti sociali sono dei patti sociali come si può dire in cui i protagonisti sono che sono il caso delle costituzioni di epoca liberale dalla parte c'è l'aristocrazia dalla parte c'è la borghesia in contesa tra di loro quindi le carte di diritti servono a segnare gli spazi nell'ambito di questa disputa le costituzioni democratiche diciamo sono costituzioni che segnano l'equilibrio in un'altra disputa che è una disputa di classe ma tra altri soggetti che sono appunto il capitale il lavoro la borghesia il proletariato ecco nel caso della dichiarazione universale qua c'è una disputa diversa la mediazione avviene tra soggetti che hanno sono guidati da un interesse diverso e da un intento diverso ma l'intento diverso è quello della protezione della pace e l'idea che senza una condizione di giustizia la pace risulta costantemente attentata ecco questo è il questo è il dato di questo è un po' il fatto ora nel testo della costituzione nel testo della della proclamazione vedete potete trovare con forte evidenza queste diverse mani queste diverse coloriture si può capire quali norme sono venute per ispirazione americana o anglo-americana e quali quali norme sono invece venute per ispirazione proveniente dai paesi dell'area socialista o da altri paesi tutta l'area dei diritti sociali evidentemente è un prodotto di quell'input e la combinazione è una combinazione molto delicata c'è però una terza componente che è quella che vi dicevo prima è questa componente culturale solidaristica personalistica che lascia delle tracce essenziali delle tracce essenziali e dov'è che sono queste tracce essenziali ora è impossibile dato il tempo proporvi una lettura lì di doazione delle norme che fanno questa operazione la trovate in tutte quelle norme nelle quali si ripone una particolare attenzione alla situazione della persona come singolo da una parte che è stato articolo 1 tutti gli esseri umani parla di esseri umani e poi ancora in tutte le norme in cui ci si sofferma sull'aspetto dei doveri di solidarietà perché personalismo e solidarietà sono evidentemente due punti incardinati e collegati intricati tra di loro articolo 29 ognuno ha doveri nei confronti della comunità solo nella quale è possibile il libero pieno sviluppo della sua personalità vedete questo oppure quando l'affermazione dell'articolo 1 gli esseri umani sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza ecco quindi questo è il senso di questo compromesso di questo compromesso straordinario che ha avuto la capacità di fermare gli scontri almeno per un attimo e di riunire l'umanità sotto la stessa tenda ecco grazie 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 a tutti grazie a tutti